E veniamo alla Coppa UEFA. La Fiorentina, come accennato, è stata la più sfortunata nel sorteggio. Opposti ai belgi dell'Underlecht, i viola hanno entusiasmato per un tempo, ma passati in vantaggio con Socrates, non sono riusciti a piazzare il colpo del definitivo knock-out. L'Underlecht, squadra di grande classe ed esperienza, ha atteso il momento giusto per siglare con Vandenberg.